Io ho presentato stasera delle cose che ho realizzato per il Comune, cioè delle serigrafie che rappresentano la torre e il vaso di Asteas in esso contenuto. E' un omaggio, ho voluto fare un omaggio alla città di Montesarchio, proprio rappresentando quelle che sono il simbolo di Montesarchio, cioè la torre e quindi appunto il vaso di Asteas. Però ho abbinato a questa presentazione di serigrafie, poiché il vaso di Asteas rappresenta Europa, che era una principessa, ho abbinato a una mostra che si intitola Le Castellane. Proprio perché, per abbinarci al mito di Europa, le Castellane erano quindi le abitatrici dei castelli e io ho voluto rappresentarle attraverso una serie di dipinti, anche attraverso la storia del costume delle Castellane, dal periodo classico fino a Diana d'Inghilterra. Questi dipinti sono molto particolari perché sono realizzati anche con i tessuti, perline. Infatti il visitatore, l'osservatore, diciamo che rimane un po' interdetto perché da lontano sembra solo dipinto. Poi avvicinandosi si vede dove c'è il dipinto, dove c'è invece la passamaneria, il merletto, anche l'utilizzo di vere perline. E il tutto, devo dire la verità, è stato molto apprezzato, è stato veramente una novità per Montesarchio.